I risultati ottenuti con l'avvio del servizio Freccia Rossa in Umbria finora sono superiori alle previsioni. Sottolinearlo è stato Orazio Iacono, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia in occasione della firma Palazzo Donini del nuovo contratto di servizio con la regione. Iacono si è poi soffermato sulle prospettive future dell'alta velocità. Osserviamo costantemente il mercato, ha detto, e quando ci saranno possibilità di aggiungere nuovi servizi sapremo sicuramente coglierli.